Cerchiamo di capire se questi trend di crescita sui mercati possano continuare con i ritmi attuali in compagnia di Filippo Diorovic, Senior Market Analyst di IG. Buongiorno e ben ritrovato, Filippo. Sì, buongiorno a tutti, grazie di invito. Ecco, abbiamo scelto un titolo, Meta e Tesla sfidano gli short seller, non per caso, perché appunto stavo raccontando, non so se hai avuto modo di sentire, quello che è accaduto da inizio anno con il comparto tech in generale, ma soprattutto con questi due titoli. Ora ci piacerebbe iniziare con Tesla per due motivi, si preparano per l'Investor Day, che appunto domani Elon Musk probabilmente lancerà nuove sfide, questa volta nel campo dell'intelligenza artificiale, che fa già parte comunque dell'ecosistema di Tesla, e poi dall'altra parte ci piacerebbe fare il punto sulla performance in borsa. Innanzitutto, può continuare questo mega recupero da inizio anno rispetto alle perete di 22? Allora, può continuare assolutamente il rally, soprattutto per questi due titoli che tu hai menzionato, che sono Tesla e Metaplatform, che hanno un po' rivisto i propri piani industriali, le proprie strategie, e al momento stanno pagando i nuovi obiettivi che si sono prefissati. Può durare quindi per qualche mese, a nostro avviso, c'è il rischio sempre che la Federal Reserve dovrà essere più restrittiva rispetto alle aspettative del mercato. Il mercato al momento sta scontando tre aumenti dei tassi di interesse di 25 punti base, le nostre prospettive sono un po' più hawkish, ci rispettiamo una Fed più falco, proprio perché l'inflazione è molto persistente su livelli alti, soprattutto quella core esclusi energetici alimentari. Quindi, detto questo, però l'entusiasmo su Tesla e Metaplatform continuerà ancora un po'. Come detto, l'innovazione, soprattutto la decisione di entrambe le società di puntare sulle nuove tecnologie, sull'AIP dell'intelligenza artificiale. È notizia recente che Elon Musk ha ingaggiato, ha reclutato Igor Babushkin, che era uno dei capi del dipartimento di Google Alphabet, della Deep Mind AI unit di Google Alphabet. Quindi si vuole investire molto sull'intelligenza artificiale, proprio per sfruttarla sia per quanto riguarda Tesla, ma anche per quanto riguarda Twitter. Quindi sarà sicuramente un investimento molto interessante. Sappiamo che anche da un punto di vista industriale, il rialzo di Tesla è stato giustificato dalla grandissima produzione che è avvenuta nella Gigafactory di Berlino, la Gigafactory 4, che è riuscita a produrre 4.000 macchine a settimana ben un mese prima rispetto ai piani dell'azienda di Musk. Quindi sono tutte notizie positive che stanno portando il titolo a volare verso livelli incredibili. Ricordiamo che da inizio anno siamo un più 70%, quindi è uno dei titoli che ha performato meglio e ha fatto ritornare Elon Musk come l'uomo più ricco del mondo. Infatti questo è successo proprio ieri con i suoi, credo adesso, all'incirca 187 miliardi di dollari. Ecco, dal lato investitore, noi ci mettiamo sempre dal lato investitore, Elon Musk sembra un po' più convincente? Un SEO tornato a focalizzarsi sulla società Tesla dopo le distrazioni a non da poco, ma anche un investimento Twitter di più di 44 miliardi di dollari? Crediamo di sì. Ne avremo un po' la prova, proprio come tu hai ricordato, all'Investor Day del primo marzo, perché c'è un grande hype, ci sono grandi attese proprio per questo evento, perché molti si aspettano l'annuncio del cosiddetto Model 2, ovvero una macchina un po' per le masse da 25 mila dollari. Tesla per le masse sembra abbastanza interessante. Eh sì, teniamo conto che già Tesla ha abbassato notevolmente i prezzi dei propri modelli, tra il 6 e il 20% rispetto al modello più caro. Sappiamo del grande successo del Model Y, però ecco, manca un modello economico. 25 mila dollari è sicuramente un modello che più persone si possono permettere, e cioè il grande hype se verrà annunciato proprio all'Investor Day, con la possibilità di avere anche delle batterie più performanti, avere nuove novità per quanto riguarda la guida autonoma, perché insomma molti parlano di questo Hardware 4, Hardware 4, che dovrebbe rivoluzionare la guida autonoma, con una grande capacità, una grande potenza e così via. Quindi ecco, ci sono grandissime attese, vedremo se Elon Musk riconfermerà di essere il techno king, il grande imprenditore, tornando proprio sull'innovazione e sul lancio di nuovi prodotti, ecco che, come detto, manca poco, quindi vedremo se riuscirà a confermare, perché ci aspettiamo tanta volatilità sul titolo, proprio sulle scelte che faranno di strategia e di annuncio proprio all'Investor Day. Ecco, mi piacerebbe soffermarmi veramente brevemente anche su Meta Platforms, sì, anche Meta in rialzo del più del 44%, non si può paragonare a Tessia, però comunque il 44% dell'inizio anno non è poco, da una parte trimestrali molto positivi, anche Guidance particolarmente positiva per i prossimi trimestri. Ecco, volevo capire quali sono le vostre attese anche lì, la crescita a livello di borsa può continuare con i ritmi attuali? Allora, per quanto riguarda Meta Platform, sicuramente ci sono anche state delle scelte diverse rispetto a Tessia, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza, la riduzione dei costi, ricordiamolo, i lay-off di 11.000 dipendenti, 13% della forza lavoro, e secondo indiscrezioni del Washington Post, sono previsti nuovi annunci di licenziamenti per quanto riguarda anche il 2023, quindi gli altri annunci sono stati fatti a novembre. Quindi ecco, questo è molto interessante, e poi ecco, anche qui, Meta Platforms ha deciso di diminuire notevolmente, quasi a zero, ridurre all'osso gli investimenti sul metaverso, che si è dimostrata al momento una scommessa persa, probabilmente ha anticipato troppo i tempi, per buttarsi anche lei sull'open AI, sull'intelligenza artificiale, con investimenti notevoli, per proprio sviluppare prodotti per WhatsApp, Messenger e Instagram. Quindi, chiaramente Zuckerberg è molto interessato adesso all'intelligenza artificiale, e lo vediamo, il titolo è vero, non ha fatto la performance di Tesla, ma siamo un più 40% da inizio anno, e sicuramente un grande recupero rispetto alle perdite del 2022, quando tutti affermavano che Meta Platforms era la grande malata del settore tecnologico, e Zuckerberg, anche con quella decisione di fare quel grande piano di riacquisto di azioni, il grande piano di buyback, ha riportato il titolo, sicuramente su livelli molto più interessanti. Ecco, vorrei tornare rapidamente sulle banche centrali, soprattutto Fed, alla prova dei non-farm payrolls, che è un altro nostro titolo per la giornata di oggi, non-farm payrolls, peraltro che vedremo il prossimo venerdì, non questo venerdì, quanto sono importanti, dopo aver visto i numeri sull'inflazione, che poi mi piacerebbe ricordare ai nostri telespettatori, poco prima della nostra diretta, sono usciti anche i numeri della Francia, in termini di inflazione, sempre preliminare, per carità, anche la Spagna, sopra le attese, quello che disturba è anche la crescita su base mensile in Spagna dell'1%, in Francia vado subitissimo a vedere il dato per non dire una cosa non vera, però per esempio su base annuale al 6,2% rispetto a tese del 6% e su base mensile 0,9% rispetto a un'attesa dello 0,7%, quindi Filippo, quello che vorrei dire è che l'inflazione continua a persistere, non solo negli States, ma anche in Europa, quanto sono importanti in quel senso i non-fund payrolls per la Fed? Sono molto importanti perché ricordiamo la Federal Reserve a differenza della BCE al dual mandate, quindi al doppio mandato, che è quello della stabilità dei prezzi, ma anche della piena occupazione. Il mercato del lavoro è in piena occupazione, ma il rischio è che un mercato di lavoro molto forte, con un'ulteriore crescita dei posti di lavoro e con una crescita dei salari, può portare ulteriori spinte all'inflazione. Ricordiamo anche che, visto che molti nostri clienti ci hanno chiesto come mai non viene pubblicato il 3 marzo, perché solitamente è sempre il primo venerdì del mese di marzo, ma questa volta è il 10 marzo, proprio perché il febbraio è molto corto e manca il tempo per assimilare i dati da parte proprio delle US Bureau of Labor Statistics e quindi è il 10 marzo. L'inflazione, come detto, quindi è un problema, è un problema che i membri della Commissione Operativa della Fed, del FOMC, stanno discutendo oramai da parecchio tempo e a nostro avviso dovranno continuare a essere aggressivi. Si sta cominciando a parlare anche di un possibile rialzo dei tassi di 50 punti base nel meeting di marzo. Le nostre prospettive sono per 4 rialzi di 25 punti base portando il terminal rate dei tassi di riferimento nel range 5,50-5,75%. Però, come detto, oramai ci sono molti analisti che già pensano anche al 6%, nonostante il mercato invece sia più dovice, il mercato abbia questa convinzione che poi il problema dell'inflazione dovrebbe col tempo diminuire. Ma i dati stanno invece confermando il contrario che le inflazioni continuano a essere persistenti su livelli troppo alti non tollerati dalle banche centrali. Ecco, sì, assolutamente. Infatti, queste sono le ultime indicazioni anche dai dati che stiamo vedendo in Europa. Un'ultimissima cosa, Filippo, con te abbiamo sempre parlato di più dei titoli dei mercati americani. Una cosa che sorprende è che Futsimib per secondo mese consecutivo sarà la piazza migliore in Europa con un rialzo superiore del 4%. Poi bisogna vedere la seduta di oggi che in effetti è l'ultima di febbraio. In qualche modo vi sorprende questo fatto? Non ci sorprende ma perché l'indice italiano è soprattutto bancocentrico e quindi il peso delle banche è molto forte e ricordiamolo negli ultimi 4, 5, 6 mesi le banche stanno vivendo soprattutto le banche italiane ma poi le banche europee stanno vivendo un momento di forte entusiasmo grazie alle politiche monetarie restrittive della BCE che sta aumentando i tassi di interesse che quindi questo porta a un aumento dei ricavi e soprattutto del margine di interesse le banche italiane che sono banche soprattutto commerciali non banche di investimento sono favorite da questo elemento anche questa quiete che c'è sul mercato obbligazionale soprattutto sullo spread probabilmente temporanea però anche questo ha portato grandi acquisti ecco un po' meno la seduta di oggi ma perché c'è un po' il crollo di banche MPS sulle presi di profitto sulla decisione di AXA di lasciare la propria partecipazione di vendere la propria partecipazione però ecco da un punto di vista ecco nel breve crediamo che ancora le banche italiane possono essere molto appealing molto molto appetitose ecco per un investimento di medio breve perché la BCE nonostante ecco la confusione di Christine Lagarde nelle conferenze stampa crediamo che la BCE continuerà anche lei con un rialzo di tassi di interesse per lungo tempo quindi ecco le banche italiane potrebbero beneficiarne e ci aspettiamo anche un'ulteriore ondata di consolidamento nel settore quindi con nuovi matrimoni che potrebbero portare ulteriore diciamo speculazione e interesse su questi titoli grazie mille Filippo Diorovic Senior Market Strategies CIG alla prossima e buon lavoro grazie a voi buon lavoro